Sì, è una partita di cartello, veniamo da una sconfitta e quindi sicuramente vorremmo riprendere il nostro cammino. Senti, come ci arriva la squadra? Questa settimana vi siete allenati, avete capito che una piccola battuta d'arresto ci poteva stare in questo campionato, però siete prontissimi. Sì, certo, da martedì subito abbiamo criviato la partita di Cerignola perché comunque siamo rimasti in testa, con l'amaro in bocca, quindi è stata una settimana molto intensa e speriamo di cercare il modo di portare i tre punti a Bitonto. Nico, contro il Cerignola non ci sei stato per squalifica, domani torni e ti riprendi il tuo posto in attacco, bisogna sempre vedere le scelte chiaramente di mister Roberto Taurino. Viste dall'alto cosa è mancato contro il Cerignola e come si affronta una squadra come il Taranto che comunque non sta vivendo un periodo facile ma sicuramente avrà tanta voglia di riscattarsi affrontando appunto la capolista. Certo, sicuramente giocheremo con un Taranto, anche loro non vorranno continuare questi risultati negativi, quindi troveremo un Taranto molto affamato anche lui di punti perché comunque vorrà conquistare i play-off. D'altra parte troveremo un Bitonto incazzato nel modo di dire perché comunque abbiamo perso in casa dopo tante partite, quindi sarà una partita molto combattuta. Grazie. 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 Grazie a tutti.